Non c'è un censimento, cosa è una grande comunità? Il nostro padre Jacques ha compiuto già il primo miracolo, no? Allontanare qualsiasi possibile Decompassionare Vi saluto Decompassionare vi saluto lui il suo sguardo e vi doni la sua pace tendere la sua pace a tendere il suo nome ci vediamo di nuovo grazie